Il lavoro è stato efficace, è stato piacevolissimo, ho trovato un gruppo molto disponibile e questo è un gran biglietto di presentazione, molto molto importante. È stato un primo allenamento dove ho potuto avere delle indicazioni, sono indicazioni buone, indicazioni sul metodo e sul modo di lavorare. Devo cercare di mettermi a disposizione dei miei atleti affinché loro possano, nel miglior modo possibile, esprimere le loro potenzialità e questo sarà il primo obiettivo. Non abbiamo molto tempo di quanto già domani ci sarà una partita di campionato, però sarà un trampolino di lancio dove poter iniziare a lavorare con degli indicatori interessanti vista la possibilità della squadra, degli atleti, della loro disponibilità. Appunto, che gara si aspetta domani? La gara di domani mi aspetto, certamente una gara dove ci sarà un grosso inteto e desiderio di far bene, certamente sarà così. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico e tattico, è sempre relazionabile al tempo che abbiamo avuto per poter preparare questa gara. Incontreremo una squadra importante, quella del Marigliano, una squadra che ha una grossa esperienza di inseguire in CDB, ma questo non ci limiterà. Cercheremo di fare sicuramente il nostro meglio, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto tattico. Questa è una gran bella domanda. Certamente per l'esperienza che ho la si può raccogliere con una grossa disponibilità in palestra, con un affiatamento di squadra interessante, importante, ma soprattutto con il lavoro. Grazie. Grazie.